Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Think01 che mi chiede di parlare del film del 2001 di Canaan Ivory Wyant's Scary Movie 2. Dopo il clamoroso successo del primo bellissimo Scary Movie, non si poteva pensare che la famiglia Wyant's non ci facesse un seguito. Questo Scary Movie 2 parte benissimo, secondo me la storia è molto semplice in realtà. Un gruppo di studenti viene chiamato da uno degli insegnanti, interpretato qui dall'ottimo Tom Carey, che assieme al suo collaboratore paraplegico Dwight Hartman vengono invitati per fare un esperimento sul sonno. Ma in realtà il professore sa benissimo di averli portati in casa a Inferno, in questo posto dove succedono cose paranormali una dietro l'altra e quindi lui vuole studiare assolutamente questo. E quindi tornano la nostra Cindy e tornano tutti i protagonisti del film precedente, a cui si aggiunge anche una Tori Spelling per un film assolutamente non ai livelli del primo. Però ripeto che inizia benissimo con un grande James Wood nella parte dell'esorcista, vediamo Casa Inferno con appunto parodia dall'esorcista, da Amityville Possession e via dicendo, che è veramente una parte iniziale fantastica, la prima parte una gag dietro l'altra che colpiscono subito al volo con il grandissimo James Wood appunto, che prega il ca' con la scena fantastica in cui incomincia a trombarsi l'indemoniata, con tutte le parti in cui dice tua madre è qui con noi e lei sotto le coperte, la parte iniziale è veramente fantastica, così come poi i primi dieci minuti. Prima di tutto bisogna dire che qui purtroppo al di là dell'inizio dell'esorcista poi si inizia a prendere film in giro, sì, ma purtroppo all'interno di un film di successo dell'epoca era Anting, presenza di Jean de Bont, che è una vera caata, che era il remake del grandissimo Limbasati di Robert Wise. Purtroppo questo tipo di film era già una parodia per me da quanto faceva cacare e quindi il film non riesce a ingranare più di tanto, nonostante il paraplegico che vuole fare tutto da solo, nonostante avere una Tori Spelling divertente, nonostante una grande Cindy Campbell come al solito interpretata la grande Anna Farisi, sempre in parte, così come Reginald, il problema è che dopo la prima ventina, venticinque minuti, il film si ammoscia e cominciano le gag a essere ripetite vive e ci si ricorda solo del grandissimo Shorty con il fantasma della donna col sacchetto sulla testa e poche altre cose perché il film in realtà poi non riesce veramente a colpire, non riesce ad andare nel segno come aveva fatto nel primo, le gag vanno un po' a vuoto e la regia è più piatta in un certo senso, nonostante poi alla fine il film si butti giù, però una delusione in confronto al primo e in confronto poi al prossimo che sarà veramente un colpo enorme, anche per il cambio probabilmente di regia. Qui evidentemente sullo stacco forte del successo del primo, subito dopo sei mesi hanno fatto subito questo secondo e evidentemente le idee andavano un po' di qui e di là, ripeto ci sono dei momenti in cui si ride a bestia perché le gag sono sparate a ripetizione, però ogni tanto sembra veramente di ammosciarsi, la lotta col gatto e la nostra Cindy è eccezionale, ripeto ma sono 3, 4, 5 situazioni all'interno di un film che ne mette 100 e sono veramente troppe, nonostante chiaramente si può stare da anche nella scena quella di diciamo dentro il magazzino modello Shining del ghiaccio, però insomma a voi vederlo se non l'avete visto, questo Sky Movie 2, però purtroppo per me fu una delusione perché comunque non ci risi come il primo e non ci trovai nemmeno con la voglia di ricreare la regia, la fotografia, il montaggio, sembra un po' tutto fatto velocemente per appunto agguantare il pubblico del momento e chiaramente si perde un certo tipo di freschezza e si perde soprattutto anche la parodia, ripeto che di là era di Scream e di tanti altri film che si legavano insieme e che qui invece è quasi essenzialmente Hunting che faceva K e quindi la parodia non serve a niente, in altri punti comunque ci si riesce veramente a divertire, poi comunque il film è quello che è una cazzatona gigantesca che però non riesce come ho detto ad essere una cazzatona gigantesca ed elaborata alla stragrande come il primo ma è solo una cazzatona gigantesca che può divertire ma insomma che ha del cinema ogni tanto veramente men che mediocre al suo interno, vero peccato comunque il link è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante e super grazie per donare direttamente su Youtube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia e poi ripeto il professor Oldman interpretato da Tim Carrey è una gran cosa, Tim Carrey è sempre grande gli attori se la danno ci provano ma lo script stavolta non becca le gag al momento giusto e quelle che becca purtroppo sono in qua e là nonostante ripeto i primi quarti d'ora sia veramente indimenticabile, il resto invece è dimenticabilissimo Grazie mille! Grazie mille!